Un pullman GTT della linea 18 si è incendiato questa mattina sabato 8 settembre intorno alle 9 e mezza in via Passo Vuole. Le fiamme sono divampate sul lato posteriore del mezzo. Il conducente si è prontamente fermato e ha fatto scendere i passeggeri che sono fortunatamente rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno addomato e spento le fiamme. Si indaga ora sulla causa che ha scatenato l'incendio, cosa che non sarebbe dovuta accadere soprattutto perché il pullman era nuovo. Sì 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 Sì